Buonasera, benvenuti all'appoggiamento dei concetti del Conservatorio Pelosi di Campopasso, in attenzione del Cipadrinario. Noi siamo parte integrante con il Conservatorio Pelosi, io sono il docente della classe di Pisanomica e quindi qua che sono nascite con l'idea di portare le timonize, quattro all'isarmonica potessero suonare insieme. Prima di farmi sentire quattro all'isarmonica insieme potessero sentire tre bravissimi miei studenti, che stessi tirando la sua lista, quindi con un reattore per dieci minuti ciascuno e li vanno attraverso tutto il concetto, quindi la faremo in quattro tempo. lui viene sentito al canto basso nella casetta, si chiama, per esempio il Paolo, si chiama Romani, e si dirà due, due trani, il monastero e il prevedicione. Intanto voglio ringraziare subito il direttore, il presidente, il vice direttore, che mi ha raggiunto questa occasione. Grazie a voi, per il prevedicione Romani, per il prevedicione del nostro pubblico, questa sera, e quindi buon ascolto e grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti